Leoncillo ritorna a Gubbio, si intitola così la nuova mostra allestita nella Comune Umbra aperta al pubblico fino al prossimo 7 gennaio, curata da Rico Mascelloni con il coordinamento di Francesco Balsamo e di Lisa Polidori e la collaborazione di Maurizio Stazzi, l'esposizione si caratterizza per un itinerario di visita che include le loggie dei tiratori, ma anche Palazzo Ducale, il Museo Diocesano e la Parcota e la Cappuccini. La mostra nasce dall'ambizione del professore Enrico Mascelloni di riportare a Gubbio l'attenzione su Leoncillo, che ha lasciato in città due importantissime opere scultore legate a due edizioni delle scorse biennali. Più di 30 in totale le opere dell'artista spoletino selezionate da Mascelloni, se negli ambienti di Palazzo Ducale sono state collocate due grandi sculture acquisite negli anni 60 attraverso il premio Gubbio di scultura, il Parcota e la Cappuccini accoglie invece alcuni lavori legati alla stagione neocubista e incentrati sul rinnovamento della cosiddetta arte applicata. Il grande leoncillo noto internazionalmente, ma anche un leoncillo meno noto, ma altrettanto interessante, per certi versi ancora molto marginale, nel panorama anche espositivo raramente vengono esposte queste opere, però appunto dicevo un leoncillo molto attento anche a quelle che potevano essere le caratteristiche moderne, anzi direi modernissime e persino anticipatrici del design. Un percorso espositivo che consente alla visitatore di scoprire e approfondire la particolare ricerca artistica di loncillo, ritenuto tra i maggiori protagonisti della scultura internazionale del Novecento, un autentico talento sempre attento alle dinamiche dei propri anni, ma al contempo capace di evadere da ogni incasellamento storiografico.